bene se vi state corrucciando vi state preoccupando già per la valigia che dovrete fare per le vostre vacanze sappiate che c'è di peggio c'è una valigia vintage per di più una valigia vintage di una modella che si sta prestando a fare un'altra delle sue piccole grandi magie piccole grandi follie qui vedete ho già il l'ombrellino di carta che devo sistemare si qui in mezzo a vestiti arrivanza gli abiti per evitare che si rompa qui con me ho già la scatolina di miran's choice se avete seguito su youtube saprete che cosa c'è dentro se non andate a vedervelo e qui ho il cestino che non so se porterò qui invece ho una busta con dentro tutti gli accessori e che anche questa è una cosa piuttosto complessa e complicata poi ci sono le scarpe poi c'è la biancheria intima poi ci sono le cose personali ci sono le cose virgolette normali ed aggiungere a tutte queste ecco bene 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 comunque sono già a buon punto e io vi invito a seguirmi sulle storie su instagram ad iscrivervi al mio canale youtube così vi porterò con me in questa nuova fantastica avventura e con questo io vi saluto ciao ciao ciao